Ed eccoci al calcio, il Catania si sta preparando per affrontare domenica prossima al Massimino la Vibonese. È stato il punto più basso della stagione del Catania, quel 5-0 rimediato per mano della Vibonese alla razza nella gara d'andata è ancora nella mente di tanti giocatori che hanno vissuto quel momento. La partita di domenica prossima al Massimino sarà quindi una sorta di rivincita per i rossa-azzurri, inutile nasconderlo. Una sconfitta pesante, quella che è costata anche la panchina a Camplone ormai slegato ad un gruppo che non lo seguiva più. Dall'ora ne è passata, Diacqua e Lucarelli ha dovuto guidare la barca nel mezzo di una vera e propria tempesta. Ecco perché l'arrivo a 41 punti con la vittoria contro il Picerno può essere salutato con soddisfazione. Adesso c'è da togliersi qualche sassoline, il primo è proprio quello con la Vibonese. I calabresi arriveranno al Massimino, reduci da tre vittorie consecutive dalla posizione di classifica più alta raggiunta in questo campionato, anche se Modica, che è squalificato, deve fare i conti con le assenze di due giocatori importanti come Redolfi e Berardi. La vittoria nel turno infrasettimanale, oltre a tre punti pesanti, ha dato invece al Catania entusiasmo e fiducia e a Lucarelli qualche soluzione in più per affrontare l'emergenza che l'allenatore ha settimanalmente, soprattutto in attacco. L'impiego di Curcio come attaccante centrale, ma libero di muoversi il cosiddetto falso 9, è una possibilità da poter sfruttare ancora durante il campionato. Tornati dalla trasferta lucana, i rossazzurri solo da oggi inizieranno a lavorare in maniera specifica sulla Vibonese e quindi ancora ci sono parecchi dubbi sulla formazione da schierare. Non ci sarà Luca Calapai, questo è certo, visto che il difensore del Catania è stato fermato per un turno dal giudice sportivo dopo l'ammunizione rimediata mercoledì scorso. Luca Relli dovrà quindi trovare una soluzione sulla corsia di destra per la sfida di domenica e una potrebbe essere rappresentata dall'impiego di Biondi. Al massimino, lo ricordiamo, si giocherà alle 15.30.